Preghiera del mattino Signore, questa mattina penso che la Tua volontà spesso mi disturba. Che bella vita avrei se i miei genitori non mi avessero iniziato la volontà del Padre. Ma Tu mi ricordi che se tali pensieri tentatori non Ti sono stati estranei, l'uomo non vive solamente di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Signore, fa che la volontà del Padre sia oggi il mio nutrimento. Amen. Grazie.